ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale oggi andiamo a vedere in questo breve video che cosa sono gli oracoli le loro funzioni in particolare andiamo ad analizzare ci ha il link e il token link prima di iniziare vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale condividere i miei video commentare qua sotto con qualsiasi domanda qualsiasi richiesta qualora abbiate bisogno di risposte ed unive alla nostra community telegram per fare due chiacchiere insieme a noi ora vi lascio alla sigla e ci vediamo dopo su cia in link andiamo un po a vedere cosa sono questi oracoli e quali sono per aiutarci a fare ciò andiamo su coin gecko selezioniamo la sezione categorie e poi andiamo a cercare la voce oracoli eccolo qua la numero 18 cliccandoci sopra vediamo le capitalizzazioni di mercato totale il volume di trading e gli oracoli disponibili attualmente sul mercato allora partiamo da un presupposto spero di spiegarmi bene come sapete la blog chain è un sistema immutabile e molto sicuro l'unico chiamiamolo così limite della blog chain è che non riesce tramite gli smart contract a collegarsi al mondo chiamiamolo così al mondo reale al mondo al di fuori della blog chain ma gli smart contract girano all'interno della bocca cene quindi catturano i dati che sono in messi e inerenti catturano i dati sempre tra connessioni di blog chain quindi quando succede qualcosa all'esterno lo smart contract non lo rileva finché qualcuno non gli va a dire che è successo qualcosa nel mondo al di fuori della blog chain quel qualcuno che cos'è è un oracolo quindi per andare a a uno smart contract quello che sta succedendo o inseriamo dei dati manualmente oppure si va a costruire una specie di software chiamiamo l'oracolo che va ad analizzare tutte le casistiche tutte le situazioni sia nella blog chain che esternamente alla blog chain una volta analizzate tutte queste situazioni le va a inviare tramite una transazione allo smart contract che ci interessa andando a prendere per esempio c'è il link che la prima per capitalizzazione degli oracle clicchiamo su c'è link e andiamo a vedere il sito ufficiale che cosa c'è il link come abbiamo detto è un oracolo ovvero un software che è capace di scandagliare e incrociare più dati più smart contra tra diverse blog chain e non solo permette anche di incrociare dati della blog chain quindi on chain al mondo off chain quindi alla parte internet e al mondo chiamiamolo così come abbiamo detto prima reale al di fuori della blog chain e degli smart contra prima dell'uscita di questi oracoli era possibile operare solo all'interno della blog chain stessa con la creazione degli oracoli è possibile come abbiamo detto collegare più block chain tramite dei dei ponti dei bridge eppure collegare la blog chain sempre tramite dei ponti a siti internet esterni e mondi reale e informazioni del mondo reale quindi al di fuori della blog chain come fanno questi oracoli questi aggregatori di oracoli a portare le informazioni esterne all'interno lo fanno tramite degli epi ai e quindi dei collegamenti ben stabiliti questi dati alla fine cosa cosa sono possono essere tranquillamente date di pagamento statistiche di mercato valori di token o di monete fiat in tempo reale c'è il link è un sistema open source che è stato avviato tra il 2016 e il 2017 all'interno dice il link possiamo trovare ave yarn finance celsius è un partner molto importante e swift che conosciamo tutti che uno dei servizi di pagamento più utilizzati al mondo e si occupa di tutte la di tutta la gestione delle transazioni bancarie a livello mondiale chaining è un ecosistema di nodi che inviano dati dalla block chain al mondo esterno e viceversa quindi da dati dal mondo esterno alla blocce in stessa il token ciai link che cosa serve serve a garanzia ovvero quando gli smart contract inviano dei dati questo token fa sì fa da garanzia nel senso che quando il nodo è risolto sappiamo che il dato non è stato contraffatto qualora il dato venisse inserito in modo errato o fosse stato contraffatto dal mondo esterno ovviamente questa garanzia va a decadere la perdita della garanzia vuol dire che se entra uno smart contract è un dato contraffatto sia la perdita dei token inerenti a quel nodo viceversa se i dati sono corretti questa transazione viene a ricompensata con dei token link il token link al momento ha un valore di 29 dollari e 81 centesimi a una capitalizzazione che sta intorno al miliardo di token attualmente in circolazione troviamo 417 milioni di token link il token è un token realizzato sulla block chain di etirium e viene utilizzato come abbiamo visto per pagare gli operatori dei nodi di chain link chain link vanta anche degli altri partner uno su tutti e google quindi se google utilizza una block chain e un oracolo del genere non restiamo altro che affascinati eventualmente contenti del possesso del tocque nel link che sicuramente è una un token da holdare da tenere nel portafoglio la partnership con google e swift ha fatto sì che il token da 18 centesimi si è passato come abbiamo visto fino a 29 dollari perché ultimamente il valore del token ha avuto un ribasso il suo massimo è stato di 33 dollari adesso come vedete dal grafico c'è stata una flessione perché si vocifera che la secca americana dopo i controlli finiti controlli di ripple vorrebbe passare ai controlli e vedere se a tutte le carte in regola appunto chain link la bolo cd chain link e il token link questo ha fatto sì che c'è stata una flessione di mercato comunque in un anno chain link ha ottenuto il 1187 per cento da un utilizzo inerente alla block chain basta pensare all'ormai conosciuta dei fai quindi finanza decentralizzata tutte quelle piattaforme su defai e di landing per stabilire eventualmente gli interessi da pagare ai prestatori di cripto valute cosa fanno utilizzano gli oracoli come ad esempio c'è il link per incrociare dati in tempo reale per quanto riguarda prezzi valori dei token unità scambiate e circolazioni di mercato quindi grazie c'è il link ad altri oracoli incrociano tutti questi dati per garantire sempre in modo eco in modo in modo corretto ad esempio i pagamenti degli interessi per il landing o gli interessi su defai anche per oggi abbiamo terminato e vi rinnovo l'appuntamento a domani con il consueto video vi ringrazio per l'attenzione e vi chiedo di iscrivervi al canale per supportare il mio lavoro grazie a tutti